Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo allora in questo 27 gennaio giornata della memoria appunto con i nostri servizi dedicati alla memoria della Shoah. Intanto partiamo da questo primo servizio e dalla cerimonia che si è tenuta in prefettura e poi al cimitero degli ebrei. Il giorno della memoria, istituito a fine di ricordare lo sterminio del popolo ebraico, le leggi parziali, la persecuzione italiana dei cimiteri ebrei, gli italiani che hanno subito la recostazione, la pigionia, la morte, nonché coloro che anche in campi e schienamenti diversi si sono opporti al progetto di sterminio. Anche Arezzo celebra il giorno della memoria, istituito nel 2000 per ricordare uno dei periodi più tragici della storia italiana e dell'Europa, perché simili orrori non accadano mai più. L'anno scorso avevamo un altro conflitto appunto che è ancora in corso, quello tra Russia e Ucraina. Quest'anno, nel 2023, si è aggiunto il conflitto in Medio Oriente. È un momento molto grave che ci induce alla riflessione. Nel corso della cerimonia in prefettura, la consegna delle medaglie d'onore concesse dal Presidente della Repubblica. È un momento in cui vanno ricordate le vittime, vanno anche ricordati tutti coloro che hanno fatto la loro parte per poter dare una mano e per poter salvare altre persone. E chi ha sofferto in prima persona l'internamento, come oggi le due medaglie d'onore alla memoria, ai figli di due deportati della nostra provincia. Medaglie d'onore alla memoria consegnate ai familiari di Adorno Focardi e Ferruccio Marcuccini. Mio padre ha avuto molte peripezie durante quel periodo, perché è evaso due volte dal campo di concentramento. Poi è ripreso dopo quattro mesi con ferimento da parte dei soldati tedeschi. Poi è stato internato in un campo di punizione, quindi liberato dagli americani dopo due mesi, ridotto al peso di 45 kg. Quindi era ormai agli estremi. E quindi è un ricordo anche per mio nipote che era presente qui. Sarà un episodio che ricorderà per tutta la vita. Sono molto emozionato perché in un periodo come questo penso che la storia debba insegnare molte cose. E chi non le capisce, come dire, andrà incontro a sciagule del passato. Le celebrazioni sono proseguite al cimitero degli ebrei, al Parco Ducci, con la deposizione di una corona dall'oro. C'è un detto ebraico che dice che quando ci sarà pace a Gerusalemme, ci sarà pace su tutta la terra. Ecco, credo che sia questa. Oggi la preghiera è l'intenzione che vogliamo, nel giorno della memoria, uniti al popolo ebraico, vivere tutti insieme. Quando ci sarà pace a Gerusalemme, e quanto è vera questa parola oggi, ci sarà pace su tutta la terra. E allora il sindaco di Arezzo oggi appunto lo avete visto al cimitero degli ebrei, nel Parco Ducci, proprio per celebrare il giorno della memoria, rappresentare il comune capoluogo nella città gemellata di Oswiecim, in occasione proprio delle cerimonie per il 79esimo anniversario della liberazione del campo di concentramento di Auschwitz e Birkenau. La delegazione è composta dal vice sindaco di Arezzo, Lucia Tanti, e dalla consigliera Valentina Sileno, che hanno deposto un mazzo di fiori in memoria delle vittime della Shoai, che hanno preso parte a tutti i momenti commemorativi previsti dal programma della giornata. Una giornata, come dicevamo, davvero particolare e doveroso, ricordare quello che è accaduto, e allora l'impegno anche della nostra emittente. Questa sera, subito dopo, il nostro telegiornale, uno speciale, nel quale abbiamo voluto raccogliere le testimonianze di due superstiti di stragi che sono avvenute nel territorio arettino. Partiamo da Cavriglia. Io ho indagato tutta la vita per chiarire certe sequenze di com'è facile scappare perché quella porta era aperta. Perché mia nonna mi ha detto che devi ricordare. Lei è morta nel 1950, io sono ancora qui, sto sempre a ricordare. Emilio aveva solo 11 anni il 4 luglio del 1944, quando gli ufficiali della divisione Hermann Göring uccisero suo padre insieme ad altri 191 civili. Una delle stragi nazifasciste più efferate della storia italiana, le vittime tra i 14 e gli 85 anni vennero rastrellate, uccise a colpi di mitragliatrice, e bruciate nei paesi di Meleto, Castelnuovo, Massa-Sabbioni, San Martino e Le Matole. La mia mamma aprì la porta, io ero dietro a lei, che avevo il rumore, questo tedesco sentì il rumore della porta, ci guardò, uscì la mia mamma, poi uscì io, poi mio fratello, poi quando uscì mio mamma, su li fece come dire una brava, e noi rouse, via. E quando io arrivavo un po' più giù, ci si guardò a me, ci inizia a rivederci, e non l'avevo visto più. Fu proprio la nonna a portare Emilio sul luogo della strage, un'immagine rimasta impressa nella sua mente, ancora oggi nitida, ancora oggi testimone di una memoria che non si spegne. Tu sei il figlio maggiore, tu devi vedere perché tu devi ricordare. Quando si arrivò lì, poi anche lei, tutti i suoi raggi, finì. Vedi le forme di un corpo nudo, però vestito di nero, insomma, perché erano i panni bruciati a dole. E a distanza di 80 anni, ancora le guerre, ancora la distruzione, ancora la morte di civili inermi. I discorsi mi verrebbero anche da... è meglio stai azzetto, non ne parli nemmeno, perché sento fare certe affermazioni, qualche volta che chi non ha subito queste cose non le può capire, la pazzia è la guerra, quella è una pazzia, è la guerra. È inutile, e quelli hanno ragione, hanno svolto lì. Questo dunque è un breve estratto della testimonianza di Polverini, che poi sentirete in maniera più estesa questa sera alle 21. L'altra testimonianza che invece abbiamo raccolto riguarda una superstite della strage di Civitella, che avvenne pochi giorni prima rispetto alla strage di Cavriglia. E allora abbiamo sentito, in questo caso, Vittoria Lammioni, all'epoca aveva appena 5 anni della sua famiglia, si salvò soltanto lei e il padre. Ma noi vi facciamo sentire l'ultima parte di questa bella e toccante intervista, che poi sentirete questa sera alle 21. A Vittoria, lo abbiamo chiesto peraltro anche ad Emilio, abbiamo chiesto appunto come vivono i giorni nostri, dove comunque purtroppo le guerre sono ancora sotto gli occhi di tutti. Non pensavo, ecco, io non pensavo. Io non pensavo che fosse successo questo che è successo. E la tragedia è ancora più grande di quella che abbiamo subito noi, perché è lunga nel tempo, continua, continua. È una cosa incredibile. Non so questi bambini come faranno. Però ecco, voglio dire una parola di fiducia. Fiducia, ecco, nella bontà. Fiducia nella bontà dell'uomo. Fiducia nella sua voglia di pace e di serenità. Ci vorrà, piano piano, però, malgrado l'esperienza di ora, ecco, penso che ci saranno uomini buoni. Il termine buono forse non usa più ora, ma ci saranno degli uomini buoni che riusciranno a far tornare la pace. Senz'altro dobbiamo avere fiducia per tanti ragazzi bravi, buoni che ci sono in tutto il mondo. Per loro dobbiamo dare un messaggio di pace. E allora non perdetevi, come dicevamo questa sera, subito dopo il nostro telegiornale, lo speciale della nostra emittente dedicato alla giornata della memoria. E continuano al campus universitario di Arezzo e le iniziative appunto per il giorno della memoria. Il prossimo 29 gennaio si terrà l'evento Shoah Spagna con la proiezione di due documentari che raccontano l'ambiguità del fascismo spagnolo davanti alla tragedia della Shoah. L'incontro si terrà alle 11.30 nell'aula 7 della Palazzina Donne del campus di Viale Cittadini. Adesso cambiamo decisamente argomento e parliamo di un 37enne violento che picchiava la ex compagna per questo gli è stato notificato il divieto di avvicinamento e applicato il braccialetto anti-stalking. Aveva aggredito la ex compagna la notte di Capodanno. Adesso per un 37enne è stata disposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con contestuale applicazione del braccialetto elettronico anti-stalking. Le indagini sono state portate avanti dalla squadra mobile della Questura di Arezzo diretta dal dottor Sergio Leo. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti il 37enne dopo aver trascorso la notte di San Silvestro a casa di Amici una volta rientrato in abitazione avrebbe picchiato la ex compagna per motivi di gelosia. La donna, soccorsa dai sanitari, è stata ricoverata per 10 giorni all'ospedale San Donato di Arezzo. In seguito all'aggressione la donna aveva riportato la frattura delle ossa nasali e varie fratture alle costole episodio che secondo le indagini non sarebbe stato isolato nel tempo. Per questo su disposizione dell'autorità giudiziaria al 37enne è stato notificato il divieto di avvicinamento alla donna e applicato il braccialetto elettronico anti-stalking un dispositivo direttamente collegato con la sala operativa della Questura di Arezzo che permetterà il monitoraggio in tempo reale dei movimenti dell'uomo segnalando qualsiasi tentativo di avvicinamento alla vittima delle aggressioni. Il calvario dei pendolari è ormai noto e viene sottoscritto a chiare lettere anche del movimento consumatori toscana che interviene appunto sulla situazione dei pendolari aretini che negli ultimi giorni si sono trovati di fronte a pesanti disagi. Come associazione scrive il presidente Armando Mansueto ci teniamo a sottolineare il nostro pieno sostegno e il comitato pendolari valdarno direttissima ma chiediamo anche di partecipare ai tavoli di concertazione con la regione per lavorare insieme sul trasporto ferroviario per questo sollecitiamo un incontro tempestivo con la regione al fine di discutere quanto sta accadendo in questi ultimi mesi per comprendere quali siano le azioni che la regione insieme a Trenitalia e ad RFI intende intraprendere. Una vera e propria protesta si sono ritrovati di fronte di fatto ad un cantiere che insomma è spuntato nella zona quasi dal nulla ci dice tutto Chiara Sadotti Siamo accorti perché ho visto picchiettare la mattina e si è trovato così senza che nessuno spiegasse niente a nessuno cosa pubblica amministrazione andava a fare questo per me è una gravità inaudita perché il cittadino è qui presente tutti i giorni è una mara sorpresa quella che si sono trovati di fronte i residenti di via Sicilia ci troviamo a pochi passi dal centro di Arezzo qui infatti sono iniziati i lavori per l'installazione di una torre di telefonia a poca distanza da alcuni condomini Con quale criterio è stato possibile fare tutto questo? Tutto questo Una domanda sola Benissimo deve essere messa? Benissimo Dove? Qui? Domanda Davanti alle case? Ci sono bambini anziani C'è tanto spazio da dietro I lavori sono iniziati lo scorso 25 gennaio la buca è già stata scavata 5 metri per 5 dimensioni che fanno pensare all'installazione di una torre molto alta Sembra un pendone alto di 30 metri sembra perché ripeto qui capire cosa viene realizzato è praticamente impossibile davanti a un edificio davanti a un altro edificio davanti a un terzo edificio senza una minima preoccupazione di cosa viene fatto questa a tutela del cittadino ma non è possibile tutto ciò L'antenna dovrebbe avere una potenza superiore ai 20 watt la richiesta per la realizzazione della nuova infrastruttura per la telefonia mobile è stata inoltrata al comune di Arezzo lo scorso 4 ottobre da una società di livello nazionale con tutti gli spazi che ci sono si poteva fare una scelta diversa individuare una collocazione diversa perché nessuno qui è contrario voglio dire tutti utilizziamo i telefonini tutti utilizziamo nessuno è contrario all'evoluzione però tutto deve avere un criterio e se il criterio non c'è il cittadino si arrabbia la rabbia lascia spazio però anche alle preoccupazioni sull'impatto dell'infrastruttura sia in termini ambientali che sanitari non è pensabile che tutte queste persone che stanno qui intorno abbiano questa questa struttura senza saperne gli effetti e le condizioni quindi faremo accessiati vedremo vedremo le verifiche arpa eseguite vedremo tutto fatto e dopodiché ad opera finita se verrà conclusa ma faremo di tutto perché ciò non venga fatto se è chiaro faremo le verifiche del caso faremo interpellare anche l'arpa quando sarà necessario importanti strumenti per monitorare i diversi valori riferiti a cuore ossa pressione facilitare così l'accesso ai controlli in tempi rapidi senza attese e con risultati affidabili è possibile all'interno delle farmacie comunali da lunedì prossimo 29 gennaio fino a sabato 17 febbraio dei servizi che sono sottoposti ad una periodica turnazione tra le otto farmacie della città e tra le frazioni per garantire appunto prossimità ai bisogni della cittadinanza e anche per sensibilizzare verso l'importanza di sottoporsi a esami periodici e quindi di fatto della prevenzione e adesso parliamo invece di carnevali siamo ormai alla vigilia della partenza appunto dei più importanti carnevali nel nostro territorio da Foiano ai figli di Bocco ma anche quelli dedicati ai più piccoli tempo di carnevali nella rettino al via domenica 28 gennaio in quasi tutti gli angoli della città e della provincia quello più antico d'Italia Foiano della Chiana è giunto alla 485 edizione partiranno alle 15 le sfilate dei giganti di cartapesta il cantiere azzurri si presenta con il carro autoritratto con la raffigurazione del ritratto di Dorian Gray Bombolo porta in scena metamorfosis oltre la forma con l'espressione attraverso l'arte di soggetti immateriali i nottamboli portano invece e non si arresta un'ora l'allegoria del presente vissuto con i fantasmi del passato e le paure del futuro infine i rustici con terapia d'urto amleto archetipo dell'uomo moderno in terapia è l'allegoria degli intellettuali del tempo nel borgo di Castiglion Fibocchi Valdarno al via la 28esima edizione del carnevale storico dei figli di Bocco che renderà omaggio al maestro Giacomo Puccini nel centenario della morte due le uscite domenica 28 e il 4 febbraio torna anche quest'anno il concorso fotografico dedicato a Piero Franchini dal titolo Carnevale incantato maschere e melodie nel castello di Rebocco ad Arezzo al via i due carnevali storici Orciolaia e Rigutino quest'ultimo peraltro ha già iniziato il 21 di gennaio in città il carnevale dell'Orciolaia sarà come sempre ospitato dal Parco Ducci ogni uscita un tema e tanti ospiti domenica 28 il trio Beppe Marco e Robi e la Gina per i più piccoli invece i personaggi di Frozen e la caccia al tesoro a tema Harry Potter a Rigutino oltre ai carri e alle ciacce fritte ci saranno Minnie e Topolino pronti ad uno scatto ricordo e a proposito di carnevale la maschera di Arlecchino farà il suo ingresso in questo caso in uno spettacolo teatrale al Teatro Petrarca il prossimo 30 di gennaio prendere appunto la più celebre maschera della commedia dell'arte proprio quella di Arlecchino e trascinarla nella contemporaneità consegnandola ad Andrea Pennacchi e quanto accadrà appunto con la regia di Marco Baliani che arriverà come dicevamo al Teatro Petrarca dal distidio tra Arlecchino e il nostro mondo scaturiscono situazioni esilaranti visioni dissacranti e imperdibili scontri che costringono proprio il personaggio ad attraversare con la sua goffaggine quei territori dello spirito umano che in ogni epoca mostrano le loro eterne contraddizioni davvero uno spettacolo insomma originale da non perdere che come dicevamo arriverà martedì 30 gennaio alle 21 al Teatro Petrarca il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha presentato nella sala consigliare di Sansepolcro il libro Cosimo I dei medici padre della Toscana moderna un volume che lo stesso Gianni non nuovo a lavori di carattere storico letterario ha voluto dedicare al primo granduca del territorio legislatore statista innovatore personaggio che ha indubbiamente segnato un'epoca con il ritratto di Cosimo I anche un'indagine sulla complessa storia che ha contrassegnato la dinastia medicea una storia di genio e bellezza ma anche di intrighi e sventure ricca di particolari e anche riferimenti legati proprio alla Valtiberina siamo allo sport gli Amaranto affrontano l'ultima della classe in trasferta ad Olbia ma indiani avverte non sottovalutiamo questo impegno ma anche se rimaneva l'allenatore precedente poteva anche cambiare non era detto e giusta sempre la stessa maniera anche l'allenatore precedente sì però è chiaro quando c'è un allenatore nuovo da questo punto di vista per forza credo ci siano delle novità credere tutti che la partita ha grossi indici di fiorità credo non ci sarebbe stato un momento peggiore per andare a Olbia una squadra con tante sconfitte consecutive il trauma di cambio allenatore va in casa sua dovremmo aspettarci una gara difficile difficile io credo sia la cosa più bella da quando sono venuti a Arezzo anche l'anno scorso un sacco di volte un sacco di volte fermavo l'allenamento dicendo a tutti i bravi perché si stava allenando in una maniera straordinaria come oggi oggi l'ho dovuto aiutere perché è chiaro non si poteva andare oltre però che oggi hanno dato un'intensità una bellezza di impegno tutti sono soddisfazioni che non hanno le ragazze del Rezzo Calcio femminile invece al comunale in casa affrontano il Bologna sentiamo allora ai nostri microfoni Maria Cristina Tuteri che parte peraltro dalla sconfitta ultima contro il Cesena Che partita è stata quella di Cesena poteva anche finire in altro modo ma sì sicuramente è quello che ci auspicavamo tuttavia poi ci sono degli eventi degli episodi che indirizzano la partita comunque fino a un certo punto siamo state sull'1-0 e basta un'occasione per ottenere un pareggio e poi magari motivarci per una vittoria però è una partita che vale tre punti e gli eventi possono influenzare ed è stato questo il caso Domenica il Bologna allo stadio e il Bologna è una squadra che si è molto rinforzata dalla Serie C con tre attaccanti anche pericolosi ma diciamo che in generale tutto il livello della Serie B si è alzato noi siamo sempre contenti di giocare allo stadio quindi questo sicuramente ci darà molta motivazione indipendentemente dall'avversario ed infine parliamo di basket perché domani al Pala Estra arriva il Tre Colli Serravalle dunque per l'Amen BC Servizi dopo due stop in trasferta davvero c'è diciamo il diktat di tornare al successo Domenica 28 gennaio alle 18 il Pala Sport Estra ospiterà il quart'ultimo turno della prima fase del campionato di Serie B dove l'Amen BC Servizi affronterà il Tre Colli Serravalle Scrivia la compagine piemontese guidata in panchina da Coach Gatti è reduce dall'affermazione casalinga contro Castalfiorentino e si trova solamente due lunghezze dietro la SBA in classifica il Tre Colli rispetto alla gara di andata ha inserito due giocatori nel roster Ragazzini e Perez della Blanca che oltre a dare maggiori rotazioni a Coach Gatti hanno dato più fisicità alla squadra L'Amen BC Servizi dovrà ritrovare la determinazione che ha contraddistinto la gara interna con la Spezia e che a tratti si è vista anche a San Miniato tanto che gli Amaranto hanno messo in difficoltà la terza della classifica generale in campo avverso L'ASBA avrà bisogno anche dell'apporto del proprio pubblico che in questa stagione è stato molto vicino alla squadra rappresentando in più di un'occasione un vero e proprio sesto uomo a fianco del quintetto di Coach Evangelisti L'appuntamento per tutti i sostenitori Amaranto è dunque per domenica alle 18 quando verrà alzata la palla 2 iniziale tra Amem BC Servizi Arezzo e Tre Colli Serravalle e Scrivia È tutto per questa edizione del nostro telegiornale noi vi lasciamo allora con il nostro speciale dedicato proprio alla giornata della memoria che ricorre oggi 27 gennaio nel quale abbiamo raccolto la testimonianza di due superstiti di due stragi che sono avvenute nel territorio aretino quella di Cavriglia e quella di Civitella in Val di Chiana buona visione arrivederci di San Cristina e per lauen Autore dei sovrapposti